Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro della costante attività di controllo economico del territorio, tra il capoluogo, quartieriso, cavo e pianura e Torre Annunziata, ha trattenuto arresto nelle ultime ore tra i responsabili sequestrando circa tre quintali di sigarette di contrabbando, oltre a diverse centinaia di gambe di sostanze stupefacenti. In particolare i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego Napoli hanno sequestrato in due distinti interventi 280 kg di sigarette di contrabbando, 140 kg di Marlboro Gold, Compliment, Minsk e Winston Blue nel quartiere Pianura al termine dell'ispezione in un furgone che procedeva a velocità sostenuta, altri 140 kg di Marlboro Rosse in una seconda operazione al termine di un inseguimento di un minivan all'altezza del casello autostradale Torre Annunziata Nord. Tratti in arresto rispettivamente 34 anni di Mugnano e un 31 anni di Napoli, entrambi già gravati da precedenti specifici. Gli stessi baschi verdi nel quartiere San Lorenzo con supporto della sala operativa hanno anche denunciato un 27enne di origine marocchina per percorsi ad una giovane, immigrazione clandestina e uso personale di Ashish. Lo stesso peraltro risultato recidivo per maltrattamenti è già destinato a ero di tre ordini di rintraccio per espulsione emessi dal questore di Torino. Sempre nel capoluogo, presso la stazione ferroviaria, le unità cinofri del gruppo Pronto Impiego, coadiuvate dal cane Jacqueline, hanno denunciato un 22enne di San Giuseppe Vesuviano trovato in possesso di oltre 200 g tra Ashish e marijuana. Infine il nucleo mobile del gruppo di Torre Annunziata, a seguito di un'attività di osservazione nei pressi di un condominio del centro di Torre Annunziata, ha tratto in arresto uno spacciatore di droga che aveva adibito la propria abitazione a piazza di spaccio, sequestrando gli 115 g di marijuana, due bilancini di precisione e denaro contante. Le operazioni rientrano nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, svolta dalle fiamme gialle partenopee, a fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, soprattutto nelle aree più critiche della città e dell'area metropolitana.